Tra le suggestive strade del borgo antico di Roccella Ionica, lo scorso venerdì ha avuto luogo il presepe vivente, un evento culturale ma anche benefico. Nel corso della serata infatti è stato dato il via ad una riffa il cui ricavato è stato donato interamente alla Caritas roccellese. Il presepe vivente di Roccella Ionica inoltre è stato particolarmente suggestivo perché ha ripercorso l'arrivo dei re magi e la storia poco conosciuta del quarto re, partito da un paese lontano e giunto in ritardo e a mani vuote a Betremme. La rappresentazione, grazie allo straordinario lavoro svolto dagli organizzatori e alla bravura dei numerosi figuranti, ha permesso ai tanti accorsi di assistere ad una messa in scena realistica, emozionante, un'occasione per rivivere e ricreare lo spirito del Natale, quello dettato dai veri valori, spontani e genuini, che solo l'incontro tra religione e tradizione può dare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.